Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono LeonaxD e che ci fa questo di Fortnite qui, questa è una recensione, togliamo di mezzo, perfetto, non chiedetemi cosa è successo al muro, non lo fate, oggi sono qui per analizzare il trailer di Venom 2, so che è uscito una settimana fa ma meglio tardi che mai no? Quindi, allora, comunque, le vicine di Venom 2 sono ambientate un anno e mezzo dopo il primo film, ma sì, questa cosa ve la volevo dire, comunque non c'entra niente con l'analisi del trailer, iniziamo dopo la sigla. Allora, il trailer si apre con una panoramica di San Francisco per poi spostarci nell'appartamento di Eddie che vediamo un po' in disordine, giusto, giusto un pochino, dai, facendo il paragone con la mia stanza, sembra camera mia. Vediamo, poi, vediamo un cartello con la scritta, vietato mangiare le persone. Dobbiamo stabilire delle regole, d'accordo? Non te ne puoi andare in giro a mangiare chi ti pare piace. Non posso. E mi piacerebbe sapere perché tengono delle galline in casa, cioè, anch'io voglio delle galline. Ci mostrano la relazione rafforzata tra Venom e Eddie, e Venom si allunga e si contorce nella cucina di Eddie, praticamente distruggendola per preparargli la colazione. Che è una gamma incredibile, ricca di calorie, di waffle, uova e altre delizie mattutine, mi è venuta fame. E l'idea è ovviamente che la bomba di carboidrati ed energia vada direttamente da Venom passando per Eddie. Ma a questo momento evidenzia anche l'umorismo cupo, ma lo sciocco dei due. La scena si sposta nel negozio della signora Chen, dove la vediamo salutare sia Eddie che Venom. E vediamo Venom aggiustare un giornale, dove viene raffigurato Stelli. Non ce la faccio, rompio i ricordi. E se ti trovo, ti amo. Non ce la faccio, non so. Ci spostiamo sulla prigione di San Quentin, dove sentiamo la voce di Cletus Kasady, che molto probabilmente sta parlando con Eddie. Ho controllato sui muri se c'era un riferimento, ma non ho trovato, ho trovato solamente una canzone che... una fenicia o qualcosa. Vediamo Cletus prendere appogno il muro. Beh, rivediamo Venom sempre uguale. Intento a mangiarsi una persona cattiva. Persona cattiva. Già. Ci spostiamo su Eddie che sta guardando dei disegni e sul computer notiamo il logo del Daily Bugle. Lo stesso logo della trilogia di Serra e Me. Wow! Poi vediamo questo detective interpretato da Graham Dove, per aver pronunciato il nome bene. Lo vediamo che sta leggendo un giornale dove rivediamo il logo del Daily Bugle. E se fate attenzione, si può notare anche la scritta... Anger. Che sia un vago riferimento agli Avengers? Oh! Poi vediamo il dietro dove c'è scritto Wanted. Vedendo un po' in giro, quell'uomo potrebbe essere un riferimento a Eric Larson, uno degli artisti di Spider-Man e Venom. Poi vediamo Annie e Eddie, nello stesso ristorante del precedente. Poi vediamo il Ravercroft, spero di averlo pronunciato così, sembra una moda di Minecraft. Che è una struttura di massima sicurezza specializzata nel trattamento di criminali subraumai. Lo vediamo anche in The Amazing Spider-Man 2. Poi vediamo questa ragazza che nei fumetti è Shriek, spero di averlo pronunciato bene, sembra una versione di Shrek al femminile. O comunque Shriek, una pazza criminale pericolosa con la capacità di manipolare i suoni. Poi vediamo Ben che sale su una chiesa con qualcosa in mano e Cletus Cassidy che schiaccia un ragno palese in citazione a Spider-Man. Mentre scrive una lettera, boh, chissà dove lo scriverà. Poi lo vediamo dietro le sbarre mentre si rincontra con Eddie dopo tanto tempo. Come detto prima, il film è ambientato un anno e mezzo dopo. Poi vediamo anche che fanno un'iniezione a Cletus e qui mi è arrivata una bella teoria in mente che forse potrei portare sul canale. Una teoria sulla trama. Beh, se la volete, spondiciate. Vediamo anche delle persone che assistono con aria preoccupata o triste. Fanno l'iniezione a Cletus e lo vediamo mentre si trasforma. Poi notiamo questa villa, la Bruce Wayne, in fiamme e questi due soggetti che purtroppo non si vedono molto bene. Ma potrebbero essere Carnage e Shrek. Non riesco a pronunciarlo, mi sembra ogni volta che io pronuncio mi viene in mente Shrek. Comunque non è confermato che siano loro due. Poi Venmo che vuole mangiare la testa del detective e vediamo anche Shrek che usa i suoi poteri. Poi macchine e elicotri che vengono distrutti da Carnage. Una prigione dove molto probabilmente potrebbe essere il Ravencroft dove cercano forse di fermare i Carnage. Sì, buona fortuna con quelle pistolette. E poi lui, signori e signori, ecco voi, Carnage. Dove praticamente non si vede una beata minchia ma che furbette hanno usato la luce per non farci vedere la pessima grafica. Peccato, volevo vedere un Carnage. Mi sa che ci toccherà aspettare un altro trailer se non il film. E poi secondo me non è così male la CGI. Poi vediamo il titolo Venom la furia di Carnage. E' una scena molto divertente tra Eddie, Venom e la signora Chen dove gli dice che non ha la cioccolata e Venom se la vuole mangiare. Sapete perché Venom mangia la cioccolata? Bene ragazzi, preparatevi per la lezione di scienze. La motivazione di questo particolare passione furono introdotte e spiegate nel 1996 tramite la miniserie Venom The Hunger. Dove Eddie e i simbionti furono per un po' staccati e indipendenti. Senza il controllo di Eddie, Venom divenne una macchina unicida dall'aspetto sempre più mostruoso. Spinto solo dalla volontà di nutrirsi di cervelli umani. La motivazione è che per sopravvivere il simbionte deve assimilare una certa quantità di eniletilamina. Un alcaloide con il ruolo di neurotrasmettitore presente nel nostro cervello. Quando Eddie e Venom si riuniscono, Brock dovette cercare un escamontaggio, un sostituto per far sì che il bisogno chimico del simbionti fosse forse arginato. E forse contenuto arginato, come volete voi. E scoprì che la family team lamina è presente in una quantità propria nel cioccolato. Ok, questa parte ho dovuto a leggerla. Se anche voi mangiate il cioccolato potete dire che mangiate i cervelli. Almeno che il cioccolato non sia fatto in un cioccolato. A parte gli scherzi, nell'ultima scena vediamo più nel dettaglio Carnage. E a vederlo bene non è un po' troppo grande? Cioè ragazzi, è enorme. Rispetto a Venom dovrebbe essere un ningerlino e qui sembra quasi grande come Riot. E vabbè, spero che sia la, come dire, la prospettiva o forse qualcosa di modificato. Lo scopriremo solamente guardando il film. E beh ragazzi, la mia analisi del trailer finisce qui. Cosa ne pensate di questo trailer? A me è piaciuto, tantissimo. Potete trovare la mia reaction che vi lascerò qui in descrizione oppure direttamente a metterlo sul mio canale. Se ho dimenticato qualcosa scrivetelo pure nei commenti. Vi ricordo che Venom dov'uscirà il 24 settembre di quest'anno e io non vedo l'ora. Ora ragazzi, il video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Sapete cosa fare. Lascia un like, iscrivetevi al canale. Condividete questo video con i nostri amici. E se non vi iscrivete al canale... Arriverà il caos!